Voglio saltare e arrivare, ok, qua, fino a qua. Salmon genero Buz, Darahab, Buz genero Obed, Darut, Obed genero Lese, Lese genero Davide, il re. E Davide genero Salomone, da quella che è stata moglie di Uria, Salomone genero Roboama, Roboamo genero Abia, Abia genero Asa, Asa genero Jeosafat, Jeosafat genero Loram, Loram genero Uzia, Uzia genero Luatam, Luatam genero Bacchaz, Aciaz genero Ezechia, Ezechia genero Manases, Manases genero Amun, Amun genero Josia, Josia genero Leconia, I suoi fratelli al tempo della deportazione in Babilonia, e dopo la deportazione in Babilonia, L'Econia genero Salatiel, Salatiel genero Zorubabai, Zorubabai genero Abiud, Abiud genero Eliakim, Eliakim genero Azor, Ajo genero Sadok, Sadok genero Akim, Akim genero Eliud, Eliud genero Eliazzaro, Eliazzaro genero Matan, Ok, se andate, vedete, Matan genero Giacobbe, Giacobbe genero Giuseppe, il marito di Maria, dalla quale nacque Yahawashai, che è chiamato il Messia, qui il punto è là. Torniamo al versetto precedente, che era il libro di Matteo, no, era un Apocalisse, scusatemi, 22, ok? Il versetto 16, che è qui, che è qui. Io, Yahawashai, ho mandato il mio angelo per attestarvi queste cose, eh? In seno alle chiese, io sono la radice e la progenie di Davide, ok? Non è nato dallo Spirito Santo, è blasfemo questa cosa qua, è nato, è il seme di Davide, ok? Ehi, spero che voi state capendo questa cosa qua, perché è davvero un blasfemo dalla parte della chiesa cattolica, e tutte le chiese spingono questa filosofia sbagliata che viene dall'antichità, che viene dai tempi di Babilonia, dai tempi di Nimrod, ok? Che non ha nulla a che fare con la verità. Se volete capirne di più, tornate dietro a guardare altri video che ho fatto a riguardo di queste cose qua. Anzi, metterò uno link sulla descrizione in questo video per farvi vedere che è un inganno, è una filosofia inganno dire che la madre di Yahawashai, così chiamato Gesù, era vergine. Non c'è da nessuna parte nelle scritture che attesta davvero che è vergine. Sono parole che sono state aggiunte dopo. Infatti, quella parola vergine, io voglio tornare su Libro di Matteo, capitolo 1, e mi sa che è in versetto qui, 18, dove? No, 23 mi sa. Ecco, versetto 23 qua. Ecco, la vergine sarà incinta. Infatti, la parola vergine, se andate a vedere, ok? I primi manoscritti, non troverete la parola vergine là. La parola vergine è stata inserita dopo. La parola là era fanciulla, la giovane. Sarà incinta e partorirà un figliuolo, proprio come era scritto nel Libro di Isaia. Proprio come era scritto nel Libro di Isaia, 14 qua. Perciò il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la giovane concepirà, la giovane era la parola che era là. La parola vergine è stata inserita dopo. Pregate al Padre Yehovah B'Hashem Yehovah Shaya, affinché possa aprirvi gli occhi per capire queste cose qua. E chiedete per la verità, e la verità vi verrà data. Come c'è scritto nel Libro di Giacomo, il primo capitolo, il versetto 7 o 6 se non sbaglio. Bene, andiamo avanti. Leggo dal Libro di Giovanni. Vorrei darvi tante prove, così. Vedete che non è scritto da una sola parte. Capitolo 7, e versetto 42. 42, che è qui. Vedete? Qui. Inizio a leggere. La scrittura non ha. Ella ha detto che il Messia viene dalla progene di Davide e da Bethlehem, il villaggio dove stava Davide. Avete visto? Progene. 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 La scrittura non... Non... Come si dice? Le parole del padre non si contraddicono. Qui vi stanno ancora appuntando sempre, dando sempre più prove. La scrittura non ha. Ella ha detto che il Messia viene dalla progene di Davide, come fa ad essere nato dagli angeli, da uno spirito? Come fa la Maria ad essere stata messa incinta da uno spirito, se qua le scritture continuano a dire che è progene di Davide? Ok? E prima, quando vi avevo letto dalla genealogia, dalla genealogia di Hawashai, dal libro di Matteo, primo, Quando vedete queste parole qua, genero, se andate a guardare le radici di questa parola genero, viene da il gene, il gene, il gene umano. Perciò il gene ha a che fare con il seme, che è la sperma di uomo. Ok? Senza la sperma dell'uomo non c'è gene. Ok? Vi leggo sempre dal libro di Giovanni. Ok? Capitolo 1. Ok? Versetto 45. Che si trova qui. Ok? Filippo trovò Nataniele Egli disse, Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge ed i profeti Yahawashai, figliuolo di Giuseppe da Nazare. Avete visto? Figliuolo di Giuseppe da Nazare. Perché qui non hanno detto il figliuolo, il figliuolo degli angeli, come hanno detto Mosè e i profeti. Perché non è una verità questa. La parola vergine è stata inserita dopo. Non voglio perdervi tanto tempo. Vado sempre a darvi un'altra prova Dall'Evangelo di Luca. Ok? Capitolo 1. E versetto 15. Qua, qui. Poiché sarà grande nel cospetto del Signore. Non berrà né vino né cervoglia e sarà riempito dello Spirito Santo fin da seno di sua madre. Ecco, questo ha a che fare con Giovanni Battista. Se andate a leggere dall'inizio Dall'inizio di questo libro Ok? Il libro di Luca, capitolo 1. Ecco qua. Sì, anzi, inizio a leggere un po' Un po', diciamo Ok, inizio a leggere da Dal versetto 5. Aidi d'Erode, re della Giudia Vera un certo sacerdote di nome Zaccaria Della muta di Abia E sua moglie era della filuole d'Arone E si chiamava Elisabetta Ora erano embe due giusti Nel cospetto di Yahawa Camminando irrispe Irriprensibili in tutti i comandamenti E precetti del Signore E non avevano filuoli Perché Elisabetta era sterile Ed erano embe due avanzati D'età, in età Ora avvene che Esercitando Zaccaria il sacerdotio Dinanzi al Yahawa Nell'ordine della sua muta Secondo l'usanza del sacerdotio Li toccò a sorte di entrare nel tempio del Signore Per offrirvi il profumo E tutta la moltitudine del popolo Stava di fuori in preghiera Nell'ora del profumo E gli apparve un angelo del padre Yahawa Ok Rito Rito alla destra Nell'altare del profumo E Zaccaria Vedutolo Fu turbato E preso Da spavento Ma l'angelo gli disse Non temere Zaccaria Perché La tua preghiera è stata esaudita E tua moglie Elisabetta Ti patorirà un figliuolo Al quale Porrà nome Giovanni E tu Ne avrai gioia E l'allegrezza E molti si rallegreranno Per la sua nascita Poiché Sarà grande nel cospetto Sarà grande Nel cospetto del Signore Non verrà Né vino Né cervogia Cervogia E sarà ripieno Dello Spirito Santo Fin dal seno Di sua madre Vi fa ricordare qualcosa A me fa ricordare Quello che abbiamo letto prima Nel libro di Matteo Primo Primo capitolo Ok Mi sai Versetto 23 No Ok Versetto 20 Dal versetto 20 Ma mentre aveva queste cose nell'animo Ecco Dallo Spirito Santo Dallo Spirito Santo Ok E anche qua Anche qui Nel Nel versetto Scusatemi che ho perso il versetto Ecco Versetto 18 Or la nascita di Yahweh Shai Avvene In questo modo Maria sua madre era stata promessa sposa a Giuseppe E prima che fossero venuti a stare insieme Si trovò incinta per virtù dello Spirito Santo La stessa cosa come Giovanni Battista Vuol dire che questi figli sono riempiti già dalla pancia della loro madre dello Spirito Santo Noi quando veniamo nati Quando ci nasciamo Dobbiamo fare tutto il nostro percorso per cercare la verità E pregare affinché il padre ci possa riempire con lo Spirito Santo Ma in questi due figli Questi due bambini Queste due persone Yahweh Shai Figlio dell'Onipotente E Giovanni Battista Loro Dalla pancia della loro madre Avevano già lo Spirito Santo Ok E' quello che dice questo versetto qua Adesso vado a leggervi dal libro di Ebreo Ok Apostolo Epistolo All'Ibrei Ok Mi sa che è in capitolo 7 Versetto 14 Versetto 14 che dice Perché è ben noto che il nostro Signore è sorto dalla tribù di Giuda Circa la quale Mosè non disse nulla che concenesse il sacerdozio Avete visto? Come fa ad essere nato alla tribù di Giuda che viene suo padre Giuseppe e i suoi padri Davide sono della tribù di Giuda Come fanno ad essere della tribù di Giuda se è nato da uno Spirito? Non ha nulla a che fare con questa cosa qua Uscite da queste filosofia che sono filosofia che sono filosofie sbagliate che vi portano nella strada sbagliata Anzi alla morte Alla morte portano E vi leggo altri pochi versetti Leggo dal libro di Luca Ok Epistola di Luca Capitolo 2 Versetto 21 Versetto 21 che si trova qui Eh sì Due ho saltato Versetto 21 Dove i numeri sono talmente piccoli che non li vedo Ecco qua E quando furono compiuti gli otto giorni in capo ai quali Eh doveva essere ci conciso Gli fu posto il nome di Yehawah Shai Che gli era stato dato dall'angelo prima che Ehi fosse concepito nel seno Ok Avete visto qua E quando furono compiuti gli otto giorni in capo ai quali è doveva essere conciso Ok E questa cosa ha a che fare Per farvi vedere Anzi vado subito a leggervilo Che si trova mi sa in Genesi 17 E scusatemi Scusatemi che sto cercando il versetto che non mi ricordo Ok Anzi vado a leggervi il versetto Sempre da Luca Perché c'è un punto che ho saltato là Ok Luca 2 Ok Vado a leggervi Il versetto 22 No anzi Leggo da 21 Ok E quando furono compiuti gli otto giorni in capo ai quali Quali doveva essere conciso Gli fu posto il nome di Yehawah Shai Che gli era stato dato dall'angelo prima che egli fosse concepito nel seno E leggo Versetto 22 che è molto importante E quando furono compiuti gli otto giorni della loro purificazione secondo la legge di Mosè Ricordatevi qua Secondo la legge di Mosè Portarono il bambino in Gerusalemme Per presentarlo al Signore Avete visto? Secondo la legge di Mosè Perché è il seme di un uomo E andiamo a vedere Genesi 17-12 Versetto 12 Che dice All'età d'otto giorni Ogni maschio sarà ci conciso fra voi Di generazione in generazione Tanto quello nato in casa Quanto quello comprato con denaro Da qualsivoglia straniero E che non sia della tua progene Ok Avete visto? Questo è un comandamento Dato ai figlioli di Israele Che all'età di otto giorni Ogni maschio sarà ci conciso Ok Quindi Questo Fa vedere sempre Che Yahawashai Il nostro Messia È nato È nato D'altro genere di uomo Era il seme Di Davide Ricordatevi sempre Era il seme Di Davide Ok Suo padre Terena Ok Attraverso il seme La sperma Era Giuseppe Perciò Ricordatevi anche Quando abbiamo letto Che Giuseppe Era un uomo Giusto Se vedeva Che la sua donna Era incinta E lui Non avesse fatto niente Non doveva preoccuparsi La prima cosa Che doveva fare Era Quello di metterla via Per l'ulteria Per l'ultero Questa è un'altra cosa Ma invece Lui era pensieroso Perché sapeva Quello che aveva fatto E ricordatevi sempre La parola Vergine Non era Nella prima Manuscita Ok E per chiudere Questa lezione Vi leggo Dal libro Di Romani Epistolo ai Romani Che si trova Qui Ok Capitolo 8 E versetto 3 Qui Poiché Quel che era impossibile Alla legge Perché la carne La rendeva La rendeva debole Lì Dio l'ha fatto Mandando il suo proprio filuolo In carne In carne Simile A carne di peccato E a motivo del peccato Ha condannato il peccato della carne Avete visto? Qui ci sono Posso andare avanti e avanti A farvi vedere Yahawashai Il filuolo del Padre Onipotente È stato nato In carne Ok E come si fa a nascere un bambino Senza il seme del Padre Io spero che questa lezione Vi possa aprire gli occhi E spero che questa lezione Può edificare I filuoli di Israele La casa di Giacobbe E detto questo Vorrei dare tutti i lodi Al Padre Yahawah Nel nome di suo figlio Yahawashai E nel nome dello Spirito Santo Rukhah Kodash E i miei doppi onori Agli apostoli e anziani Che mi hanno insegnato questa verità Della Great Mewstone Shalom Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima